Adesso è ufficiale, in Puglia si andrà al voto il 20 e 21 settembre e vi sarà la possibilità della doppia preferenza di genere. Non ci sarà l'inammissibilità per le liste che non rispettano la proporzione del 60 e 40%, ma restano solo le sanzioni pecuniarie. E la conclusione della lunga giornata di ieri, in cui nel tardo pomeriggio sono arrivate tutte le firme necessarie per l'indizione delle elezioni regionali, firme del presidente della regione Michele Emiliano, ma anche del prefetto di Bari, Antonia Belluomo, che è stata nominata a commissario del governo per l'introduzione della preferenza di genere. Il primo atto è stato proprio quello della prefetta che ha firmato un decreto di ricognizione subito trasmesso agli uffici regionali. Il decreto di ricognizione ha dato attuazione al decreto legge dell'esecutivo, inserendo solo la doppia preferenza di genere nel sistema elettorale pugliese. Al termine delle riunioni di ieri, poi gli altri decreti firmati dal presidente Emiliano, che ha convocato i comizi elettorali, oltre alla determinazione della ripartizione dei seggi, sia con il quoziente pieno che dei resti, nonché le modalità di presentazione delle candidature. Anche il premier Conte, giunto in Puglia ieri a Cerignola in mattinata, ha ribadito la necessità di intervenire rapidamente su questa vicenda dopo la non approvazione della nuova legge da parte dell'ultimo consiglio regionale prima dello scioglimento. Conte ha spiegato anche che è esclusa ogni ipotesi di rinvio delle elezioni. Nel frattempo oggi arriva in aula alla Camera il decreto legge di conversione del decreto Bocciabonetti sulla doppia preferenza nella legge elettorale regionale. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha approvato senza voti contrari il mandato al relatore Marco Di Maio sulla legge che impone una doppia preferenza in Puglia. Le opposizioni di centrodestra tuttavia in Commissione non hanno votato il provvedimento. Dopo la Camera si attende comunque anche il passaggio al Senato.